Salve ragazzi, io sono Paymaster, siamo su Resident Evil Resistance e questa è una partita da Mastermind. Non ho ancora sbloccato né Alex né Spencer, quindi siccome l'ho giocato più in troppo usando Annette Birkin, questa partita la facciamo usando Daniel, che è piuttosto forte perché è il Mastermind che può usare il mitragliatore e che può evocare il Mr. X. La mappa è Luna Park Abbandonato, direi di usare il predefinito 4, non perché abbia una valenza strategica particolare, ma perché finora li sto usando un po' tutti in ordine, questa è tipo la mia quarta partita con questo personaggio e quindi ho deciso di usare il quarto layout, tutto qui. Eh, sono giocatori di livello basso, quindi sono o alla loro prima partita o è la prima volta che stanno usando questo determinato personaggio, mentre io ho già sbloccato il secondo Mastermind, quindi sono già un po' più in vantaggio rispetto a loro, perché conosco un po' meglio le meccaniche. O almeno potenzialmente, sempre se magari questi non hanno un altro main che è di un livello più alto, perché ogni personaggio ha un livello separato. Anch'io ho January a livello 12, ma Martin a livello 1. Ok, iniziamo buttando subito uno zombie robusto qua davanti e poi una mina la metterei qui, anche se è piuttosto visibile. Poi aspetto che si ricarica per mettere uno zombie normale qua. Hanno usato la scansione, quindi ora lo sanno. Ah, è un ripescaggio. Sono lì, stanno già arrivando, ecco i. Piazzo una mina qui. No, mi stanno rompendo la telecamera, balordi. Dove, spegni le luci, ok. E chiudiamo la porta dietro. Qui mettiamo questo qua. E ci impossessiamo anche di questo zombie. Perché è parecchio forte. No, cavolo, me l'hanno fatto fuori, questi sono bravi. Sapevano quale era appunto debole, eh. Allora. Dobbiamo iniziare a piazzare qualche zombie in zone in cui ancora non ce n'è nessuno. Una tagliola a caso qui dove c'è il cane. Non li vedo, dove stanno andando? Ok, loro sono qua. Quindi se appunto con questa telecamera li vedo, ok. Devo riuscire, stanno andando troppo veloci e troppo sincronizzati. Difficile fregarli. Mettiamo una mina qui che non si sa mai. Uno zombie robusto. Credo che non me lo faccia fuori prima che l'afferro. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Almeno un colpo solo il più topi angolo. Cavolo, si è pure equipaggiata in corpo a corpo. Non è male. Questo giocatore qui. Non voglio fare il ripescaggio perché voglio usarla la mitragliatrice. Cavolo, sono tutti lontani. No, sono tutti troppo lontani. Si, sono sparpagliati però. Ti faccio fuori questo che è una chiave. No, ho fatto una cavolata. Non so se li riesco a prendere. Qualcosa li ho fatto. Qualcosa sono riuscito a fare. Ora facciamo un bel ripescaggio. Poi anche rompermela questa telecamera. Tanto è questo. Allora, io provo a piazzare qua. No, sono riusciti a passare prima che lo evocassi. Ok, mi hanno trovato tutti i pezzi del puzzle. E ora gli restano tipo 6 minuti perché hanno guadagnato tempo finendo questa fase. È un po' più complicato perché non ne ho ammazzato nessuno. Quindi qua mi stanno uscendo solo trappole. Piazziamone un po' tutte, non si sa mai. Poi davanti alla porta io voglio piazzare questo zombie qui. Non posso. Come non posso? Allora io lo piazzo qua. Questa è forte perché è speciale. La vita gli si ricarica. Eh, però è molto facile anche estenderla purtroppo. Ripescaggio. Intragatrice. E si è curata, maledizione. No, non voglio lo zombie strisciante. Mettiamo questo. Allora, andiamo a posizionarci qui. Spresa. Perfetto. Ok, è il momento di usare Mr. X. Ah, questo si è incastrato. No, non sono riuscito a prenderlo. Devo prendere quella. Che mi ha stufato. Proprio è una questione personale. Vai, ciao. Ciao. Adesso è il momento di far fuori anche tu. Un momento, li stanno curando qui. No, bene. Ok, ho l'abilità pronta. Devo provare a fargli la presa. Passare alle porte e perdi tempo. Vedi di fregarmi così? Ti senti bene? No. No, a me è scaduto il tempo, maledizione. Però faccio un tempo a mettere questo. E una mina ricerca. E potenzio muore anche, non si sa mai. Non è affatto un bel modo per mettere fine allo vostro. C'è il suo. E dai. Me lo stunnano sparandogli, sti schifosi. Tanto, siete ancora in quest'area. Cosa volete fare? Ripeschiamo. Poi c'è una mina qui. E si vedo che ci cascano molto. No, cavolo. No, questa telecamera non mi sta bene. L'ho fatto in questa. Questo può tornare inutile. Questo lo chiamo sbrodolone. Perché è sempre ricoperto. Allora. Se magari riesco a un po' sussarmi ci... No, me l'hanno già steso. Come cavolo hanno fatto? Ah no, sta già mordendo. Bene, bene. Allora è inutile che continuo. Vorrei andare... Magari mi metto qua. Sì. E piazzo la croupier qui dietro a loro. Qui metto la mina perché questo ancora non è arrivato. Magari piazzo anche un zombie. Così per distrarre. Ecco, non c'è cascata. No, pensavo avessero preso la strada più lunga e passata da là. E quindi non la riesco più a raggiungere. Maledizione. Può aprire le porte lo zombie? No, a quanto pare no. Dove sono? Adesso sono tutti qui. Che stanno uscendo, praticamente. Maledizione. Hanno ancora 4 minuti. Può darsi che ce la facciano e che io non la vinca questa. E avevo un po' sottovalutati perché l'hanno di livello basso. Ma stanno collaborando bene. Stanno giocando bene. Più resistete, più il gioco si fa perverso. Quindi ho avuto poche occasioni per farli fuori. Lo accetterò di buon tempo. Però adesso ho la mitragliatrice. Quindi magari appena li vedo uscire. Lasso che sono carico. Piazzo lo zombie corazzato qui per distrarli. Tanto in teoria devono passare per forza di qui. Solo che adesso stanno perdendo tempo a prendere munizioni e equipaggiarsi. Eccolo. C'hanno provato, eh? Non ho munizioni! Vedete un'altra telecamera da queste parti. Avrei dovuto piazzarmi una meglio. Allora, qui. Ah no, c'ho già il Tyrant pronto. Allora. Vediamo un po'. Lo piazzo qui. Allora. Allora, te steso. Adesso farei una carica e me ne andrei. Vorrei provare a far fuori te se riesco. Perché ormai ti ho preso un'antipatia. No, schifoso! È entrato nella stanza sicura. E quello è stato curato. E mi sta fregando con l'abilità speciale. Dov'è il caso di dire bonchan? Dov'è usare più difese. Allora, sanno già dov'è il coso qui. Ok. Mettiamo una tagliola. E uno zombie ciccione. E una gru pie. Dai, smetti di spararmi. Se non sai niente. Ma non sperate di salvarvi. Beh, questi devono passare di qui. Dai, premiti! Perfetto. Quindi non possono passare adesso. Ammiro la vostra determinazione nel distruggere le cose. Un po' di fortuna. Arrendetevi. E' ancora spenta questa? Dove mi metto? Dove mi metto? Qua. No! Ho sbagliato tasto. Ok. Inche se siete separati. Ho qualche possibilità. Camminando, mettiamo qua. Cavolo, avessi quattro, avrei avuto la possibilità di sparare col mitra. Cavolo. Dov'è l'uscita di qua? Iniziamo a piazzare di tutto. Hanno cinque minuti per uscire. L'hanno vinta, molto probabilmente. Eh, oddio. Oh, Thailand. Da, no! Me lo stordiscono! Stanno collaborando tutti! Stanno in bazooka! Ok, presa. Magari riesco a ucciderlo, almeno uno. Perfetto. Sta funzionando. Ok, ne ho due stesi. Gli altri devono avvicinarsi. Mancano tre minuti, riusciranno comunque a salvarsi. Perché adesso non ho più il tempo. Però... Mi metto uno zombie col alzato qui e aspetto che passino così con il mitra il saccio fuori. Fuggiare e morirà. Non lo hai scelto tu. Mi mettono un altro, il zombie col alzato. Non mi neanche l'uomo qua. Non si sa mai. Ok. Non è morta. Devo piazzare qualsiasi cosa per impedire di passare. Perisci, perisci! Ce l'hanno fatta, maledizione. Ce l'hanno fatta davvero. È stata combattuta alla fine. Perché, come dicevo nel mio video recensione di questo gioco, alla fine è davvero imbarazzante il fatto che il Mastermind può piazzare qualsiasi cosa all'uscita per impedire di uscire. Questi potevano perderla, nonostante avessero giocato davvero bene. Solo perché l'ameravo alla fine, mettendo qualsiasi cosa davanti all'uscita per impedire di andarsene. E non è totalmente bilanciato, ecco. Beh dai, ho già fatto la missione giornaliera di stendere al 5 sopravvissuti, tutti in una sola partita. Sono più che soddisfatto. Direi che per questo video può terminare qui, perché adesso vorrei provare a sbloccare Alex Wesker. E magari una volta sbloccata farò un video su di lei specifico. Mentre se volete vedere qualche partita con Annette Birkin, oppure qualche altra partita con Daniel, fatemelo sapere nei commenti. E per questo video penso possa anche essere tutto. Quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo!